Raga, ci sono 20 Wither nel mio mondo che mi stanno cercando proprio di farmi di tutto e di più Scappa! Sono saltato un sacco Vai via, allora signor Wither, ho capito che lei mi ama, io non giudico i gusti di nessuno Però lei deve stare lontano da me Guardate, questa cosa non mi capita con nessuno perché nessuno mi vuole a parte i Wither Tutti che mi seguono, tutti i Wither, ma... Oh, vai via, via! No, 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 per favore, no, mi sto uccidendo Sono morto Ok, però devo cercare adesso, raga, di trovare la spada suprema C'è una spada fighissima, enorme, più potente dell'universo E sono serissimo, è la spada fortissima in tutto Minecraft E questa spada qua può distruggere ovviamente un Wither proprio come burro lo può tagliare Non so come dire, cioè proprio lo uccide in due secondi Ma devo trovarla nei meandri... me... me? Nei meandri più oscuri di Minecraft Che non so quali siano Probabilmente sono le caverne E anche perché io adesso effettivamente non posso più tornare lì Cioè ci provo perché avevo delle mele d'oro Le mele d'oro erano utili Cioè non per essere giudicante verso il fatto che io sono morto Ma effettivamente erano davvero utili le mele d'oro Perché erano super incantate Erano potentissime... eh no questo qua mi vuole come al solito dopo tutto E ho capito che o sono leggiadro, bello, simpatico Ho capito che... però insomma io sono una persona che non vuole rapporti con i Wither Cioè in tutto questo comunque io vorrei anche scapparmene peraltro Cioè mi scusi mi lasci in pace Senta io... ok dobbiamo trovare una caverna prima che sia troppo tardi Nel caso se voi me lo permettete Scrivetemi nei commenti se faccio bene Mi riprendo le mele d'oro dalla creativa manonora Ora devo solo trovare una caverna Accidenti quant'è buia sta caverna Veramente non riesco proprio a vedere niente Ho preso un po' di cose effettivamente Però mi servono... mi serve del cibo Mi servono degli animali da uccidere Che... suona molto brutta questa cosa Però effettivamente mi servono davvero Infatti adesso cercherò di andare a trovarli Raga aiuto non riesco a fare niente in questo momento Anche perché poi intanto i Wither stanno lì tranquilli Che stanno distruggendo il mio povero mondo Stanno mandando delle teste in giro Che letteralmente io non... che caspita sono quelle cose Ma che bella sta montagna enorme Proprio come questo maiale che adesso ucciderò Ok adesso andiamo in cavernona E addentriamoci qua dentro Però purtroppo c'è un piccolo problemino di fondo Allora io direi di fare una codesta cosa Direi di fare una fornace prima di tutto Ragazzi dobbiamo ricordarci assolutamente che lì Non so per quanto rimarrà la superficie Ok? Veramente Ci sono 20 Wither che stanno sparando dappertutto E quelli non si fermano Non so per quanto rimarrà Comunque adesso cuocio la carne e ci vediamo dopo Allora Ho fatto tutto Adesso addentriamoci qui all'interno di questa grotta buia Gatta buia Butta Ehi Ebbene Raga non si vede niente veramente Si vede tipo blu ma proprio blu strano Sto perendo Sto morendo Sto uccide Ok perfetto Bene sono vivo Sono perfettamente vivo Direi che questa non va bene come cavernuccia Direi di scavarcene via da un'altra parte Ok perfetto Adesso direi di scavarci sopra Andarcene e trovare un'altra caverna Perché questa qua Dai che palle Io volevo trovarne una Bella nuova Però almeno ci siamo nascosti qua per il momento Anche perché i Wither sono sempre lì In cerca di uccisione dei Dunis E guardateli lì come volano Intanto come fanno Oh però sta anche arrivando notte Intanto ricordiamoci questa cosa Che secondo me è importante Da ricordarci Allora ho tutto Adesso Adesso direi di andare In questa cavernona E c'è una Mineshaft bellissima Allora Stiamo super attenti Perché qui ci sono i ragni velenosi E qua Ma scusate Ma io voglio uccidere 20 Wither Ma intanto qua io sto per morire Da un ragno velenoso Cioè ci rendiamo conto Di quanto è impossibile Questa cosa Che io voglio fare No però ce la possiamo fare Sapete perché Oh no Perché mi odiano tutti Perché mi odiano tutti Magari lì c'era la spada Super potente Allora Io sto per rage quittare Io ve lo sto dicendo Sono veramente stufo Perché non sto trovando Questa spada Schifosa Poi muoio Dai pipistrelli Capito Cioè i pipistrelli Mi uccidono Non so se ci rendiamo conto Allora che caspita c'è qua Eh mille strade Che pizza Vediamo se troviamo Questa caspita di spada Che io Spero Che si avvicina Uh questo pipistrello Mi sto un po' Mmm Cioè Non è che magari C'è aerobrine In questo mondo pure Spero di no Perché se no sarebbe Veramente Disastrosa Come cosa Bella la redstone Devo dire che è veramente Inutile Peraltro non posso nemmeno Scavarla Perché non ho il ferro Pensate quanto caspita Sono povero Cosa dovrebbe essere Questa cosa Forse È quello che penso io Sì Aspetta 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 Guardate un attimo L'epicità Di questa cosa Non so nemmeno Leggerlo Scusate Guardate quanti numeri Ci sono di attack damage Tantissimi Tantissimi Il che mi fa pensare Doonis Ucciderà I l'ender dragon In Men che non si dica Ma Non l'ender dragon Scusate I wither Ma Il problema è che io Non posso ucciderlo da solo Quindi devo scavare Un po' di ferro Perché mi serve Per fare l'armatura Sappiamo bene Tutti i wither Dobbiamo sconfiggere Se no abbiamo perso Cioè ho perso io Però Ci proviamo insomma Cioè non lo so Cosa vi devo dire Ma Scusate Ma qua C'è altro ferro Perché io ho bisogno Di Di altro ferro Ho bisogno di Un'armatura in ferro Allora Facciamo così Ne scavo un po' E poi ci vediamo Fra poco Come vedete Io qua ho un po' Di ferro E ora posso farmi Sicuramente un po' D'armatura I pantaloni E io avevo detto Anche che mi davo La mela d'oro Super potente Perché effettivamente Dovete ammettere Che in questo caso Mi serve Ah Abbiamo qua Il signorino Che ci sta aspettando Allora Lo faccio insieme a voi Guardate Lo mi metto In creativa Ok Perfetto Adesso prendiamo La golden Aple Però non tante Tipo ne prendiamo Sei vanno bene Che vanno bene Anche perché sono Molto potente Questa E io direi che adesso Possiamo andare a sconfiggere Il primo wither O l'armatura in ferro O il ferro O la spada Super potente Potente che possa esistere Al mondo Ve lo ricordo È la spada La spada di minecraft Potente del mondo Perché ha un sacco di numeri Avete visto Quanto attack damage Allora Andiamo da questa parte Così Ok perfetto Ora tecnicamente Siamo fuori Io direi di mangiarci Prima di tutto La mela d'oro Ok E adesso Chiamare i signorini Ma dove sono finiti Scusate In tutto ciò Saranno di nuovo Liche Che fanno esplodere Il tutto Allora Vediamo se ce la facciamo Perché io già qua Sto balbettando Per la paura Allora Siete con me Vero Cioè nel senso Siamo tutti insieme Brutto Allora Brutto sei brutto Sicuramente Però Mi scusi Io devo colpirla Però per ucciderla Mi scusi Venga qua No no raga Mi sto Mi sto innervosendo Raga Mi sto innervosendo Un botto Perché non mi fa fare un cavolo Non mi fa fare un cavolo Però io riesco a scavare Le cose molto in fretta Anche con la spada Mangia per carità Mangia per carità Mangia per carità Vieni qua L'ho ucciso raga Perfetto L'ho ucciso Dai Vieni qua No raga Che palle Che palle Dove Sali su Sali su Sali su Sali su Dai Accide madonna Che palle Vieni qua Non ci posso credere No raga Non lo sopporto Non lo sopporto Lo sto per ammazzare Cioè Lo sto per proprio Insultare male Dove sei finito Brutto schifoso Ma raga Non me lo fa fare Allora Cerchiamo di Di stare calmi Perché qua io Raga Raga Però se non viene sotto Io come caspita faccio Ad ucciderlo Eh Ma basta Raga Raga Non è possibile Io non ne posso Più di questi signori Allora Allora Signore 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 Mi ascolti bene Mi ascolti Allora Mi ascolti bene Allora Lei 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 brutto Perché adesso 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 Io e lei Facciamo i conti Dove è finito Il signorino Era questo Giusto Era uno di questi Allora Signorino Io e lei Io e lei Di certo Di certo Non siamo migliori amici E su questo Ne siamo tutti Consapevoli Vero Però Io adesso A lei Posso ammazzarla Bello Che bene Brutto Bastardo Scusate Dovevo farlo Adesso però Uccido tutti questi Signorini Uno ad uno Perché veramente Li odio Con tutto il mio cuore Io non li so Anche perché Raga Non mi faceva fare niente Perché il signorino Non scendeva Ma signore di minecraft Io mi chiedo Come faccio ad uccidere Un signor Wither Se Non scende Eh Scusate Facciamo Rifacciamo Guardate Sale E non posso colpirlo Non posso colpirlo Perché non ti fai colpire Strombolo Grazie al cavolo Raga E' impossibile Affrontare questi Wither Senza Non lo so Le ali Cioè devi avere le ali Per affrontarli Vabbè Scrivetemi voi nei commenti Se Ho vinto Non credo proprio Perché Cioè sarebbe stato Troppo semplice Secondo me Non ho vinto Però possiamo affrontare Altre sfide del genere Magari Con l'ender dragon Che l'ender dragon Magari Viene da noi Per esempio Cioè Mi viene questa idea Magari l'ender dragon Scende da noi E ci attacca Non come il Wither Che sta lì Tutto quanto Vabbè Insomma Scrivetemi nei commenti Lasciate un emoji Arrabbiate nei commenti Perché sono arrabbiato E secondo me Anche voi lo siete Un pochino Dai Un pochino Sarete arrabbiati Lasciate un emoji Arrabbiate E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao